Nel 1965 la Commissione Europea propose ai suoi stati membri la possibilità di autofinanziarsi quindi rendendosi in un certo senso indipendente riguardo soprattutto a una delle principali politiche economiche di quei tempi a livello europeo e cioè la politica agricola comune. La risposta francese a questa proposta che era sostanzialmente un primo passo verso la costruzione di un progetto politico federalista è stata sostanzialmente questa. Una sedia Una sedia vuota Stiamo parlando della crisi della sedia vuota del 1965-66 Il generale de Gaulle che a quei tempi guidava la Francia era così convinto di negare qualsiasi sviluppo sovranazionale alla giovane comunità europea che per sei mesi non partecipò ad alcun consiglio europeo lasciando per l'appunto la propria sedia vuota. Questa situazione in realtà si sbloccò nel 1966 dove praticamente la Francia vinse su tutti i fronti. Non solo la Commissione europea dovette rinunciare a questa proposta di autofinanziamento e quindi acquisire un certo grado di indipendenza nei confronti di tutti gli altri stati europei membri appunto della comunità economica europea ma in più acquisì un altro diritto all'interno del consiglio europeo e cioè il diritto di veto. All'interno del consiglio europeo c'è la possibilità di uno stato di opporsi a qualsiasi decisione che poteva ledere gli interessi nazionali di un membro del consiglio europeo. Beh ormai penso che l'abbiate capito il motivo per cui io ho iniziato questo video raccontandovi questo episodio di storia europea. Non solo per il diritto di veto che è stato introdotto nel 1965 ma che è stato di nuovo proposto oggi dall'Olanda per poter sorvegliare meglio i paesi mediterranei nella loro spesa dei nuovi fondi messi a disposizione da parte della Commissione europea che poi alla fine nella proposta ufficiale uscita ieri è stato smorzato nella sua efficacia ma soprattutto per la possibilità della Commissione europea di autofinanziarsi all'interno dei mercati finanziari rendendosi in qualche modo un minimo indipendente da tutti gli altri stati che compongono l'Unione europea. E questo è un fatto che un po' descrive tutte magari le problematiche dell'Unione europea tutte le lungaggini, gli scontri, i compromessi ci abbiamo messo 55 anni per poter fare questo piccolo passo. Prima osteggiato in grande parte della Francia ma anche da tutti gli altri stati membri dell'Unione europea in quei tempi e adesso voluto più o meno da tutti anche se alla fine con qualche compromesso che si è dovuto accettare. Però per farvi capire quanto questa decisione sia importante si è presa in una prospettiva storica. Quindi da ieri il Consiglio europeo ha approvato la possibilità da parte della Commissione europea di potersi autofinanziare all'interno dei mercati finanziari per un importo pari a 750 miliardi. Alcuni hanno detto poteva fare di più ed è vero poteva fare di più ma di nuovo qui se guardato in questo primo passo in prospettiva storica in realtà è un grande passo per l'Unione europea e un altro importante passo da farsi saranno quelli futuri in realtà perché questo piano, questo Next Generation EU è definito in base ad una risposta temporanea ad una crisi che era prima sanitaria poi si è trasformata in una crisi economica dovuta al lockdown di tutti gli stati europei. E quindi una delle sfide più importanti da qui in avanti sarà quella di tradurre questo piano da una prospettiva temporanea a una prospettiva strutturale e quindi far diventare permanente questa possibilità della Commissione europea di poter finanziarsi e di essere indipendente da tutti gli altri stati europei a livello economico. Ma perché ci tengo a specificare se nonostante abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto al passato tanti altri bisogna farli verso il futuro? Anche qui la storia c'è d'aiuto. Tra il 2010 e il 2012 si è tanto parlato di Eurobond poi finita la crisi e la Banca Centrale Europea ha dato una mano alle finanze pubbliche degli stati soprattutto mediterranei e il tema degli Eurobond è scomparso e ognuno è continuato a fare come se non fosse accaduto nulla. E il rischio è lo stesso anche per queste tematiche perché appunto come abbiamo detto questo recovery fund, meglio detto Next Generation EU è un qualcosa di temporaneo riguardo le crisi dovute al coronavirus ed è importante renderlo stabile e strutturale all'interno della politica economica europea perché dare la possibilità di una politica economica anche a livello sovranazionale è estremamente importante e renderebbe l'Unione Europea molto più solida. Come si può fare questo? L'abbiamo visto già in un vecchio video i problemi sono palesi agli occhi di tutti c'è un problema di azzardo morale e rischio di condivisione del debito che devono essere risolti. si possono risolvere non solo ammorbidendo le istanze di controllo da parte dei paesi del nord ma anche assumendosi una certa dose di responsabilità che fino ad adesso non se ne è stata fatta da parte dei paesi mediterranei. E una buona occasione per dimostrare la presa di coscienza dei paesi mediterranei è proprio quello di utilizzare al meglio queste risorse e quindi dimostrando effettivamente di essere capaci di poter condividere un debito pubblico comune e di renderlo sostenibile non solo per se stessi ma anche per gli altri. E infatti secondo me all'interno di tutto questo contesto il problema principale è dimostrare di saper spendere. Molte volte in questi ultimi giorni si è parlato di quantità di quanti soldi riceverà l'Italia quanti soldi metterà l'Europa eccetera eccetera ma in realtà il problema dell'Italia non è mai stata la quantità ma è stata la qualità dei soldi spesi come questi soldi venivano spesi e quale contributo apportavano alla crescita economica. Come siamo arrivati all'attuale proposta? C'è stata una prima proposta franco-tedesca dell'importo di 500 miliardi di euro nei confronti dei paesi membri dati in base a dei sussidi quindi non c'era la necessità di restituire poi quei soldi alla Commissione Europea. ed era incentrata la politica soprattutto nei confronti di un'economia verde e di una effettiva trasformazione digitale di tutta l'economia. Poi successivamente c'è stata una nuova proposta della Commissione Europea pari a 750 miliardi di cui 500 miliardi di sussidi e 250 miliardi di prestiti quindi soldi che poi gli Stati membri avrebbero dovuto restituire alla Commissione Europea. Anche qui gli obiettivi erano molto simili a quelli della proposta franco-tedesca con in più tre obiettivi principali una risposta a questa crisi economica un rilancio dell'economia investendo sui temi come la green economy e la digital transformation e tutta una serie di tematiche come la sanità, l'immigrazione o gli investimenti in ricerca e sviluppo che dovevano far capo alla Commissione Europea le risorse stanziate dalla Commissione Europea. Ed infine ieri, dopo cinque giorni di trattative molto dure arriva la proposta del Consiglio Europeo. Parliamo ancora di proposta perché queste nuove politiche dovranno essere accettate non solo dai singoli parlamenti di ogni singolo Stato membro dell'Unione Europea ma anche dal Parlamento Europeo. Quindi ancora deve essere detta l'ultima parola. L'importo di questo nuovo piano è rimasto sostanzialmente uguale rispetto alla proposta della Commissione Europea 750 miliardi anche se sono state cambiate le modalità di erogazione. Infatti i sussidi, cioè i soldi che non dovranno poi essere restituiti da parte dei Paesi membri scendono da 500 miliardi a 390 miliardi mentre i prestiti, quindi dei soldi che dovranno essere restituiti con un tasso di interesse anche se è molto agevolato rispetto agli standard ad esempio di indebitamento dell'Italia sale da 250 miliardi a 360 miliardi. Abbiamo detto che il Next Generation EU cioè la proposta della Commissione Europea verteva su tre obiettivi fondamentali. Dopo la proposta del Consiglio Europeo gli obiettivi rimangono sostanzialmente due. Infatti è stato azzoppato il terzo obiettivo quello forse più ambizioso e che dava nuovi poteri alla Commissione Europea e quindi nuovi poteri sovranazionali. E la stessa von der Leyen ha voluto dire qualcosa in merito durante la sua conferenza stampa. Allora, io devo anche mentionare un po' difficile. In la sua cerca di compromissi le lezze hanno fatto far-reaching adjustments in la nuova MFF e Next Generation EU per esempio in Health, Migration, External Action, Invest EU non hanno preso il strumento di soluzione questo è regrettabile diminuisce la parte innovativa del budget anche se più di 50% del budget MFF e Next Generation EU sottolineano le politiche moderne. Abbiamo visto quanto la presidente della Commissione Europea sia delusa di quello che è successo azzoppando praticamente la gamba più ambiziosa del Next Generation EU che puntava a creare nuovi poteri a livello sovranazionale. E qui ci ricolleghiamo al discorso che abbiamo fatto prima e c'è l'importanza di creare qualcosa di strutturale a livello sovranazionale e quindi rendere l'Unione Europea sempre più forte e consolidata. E invece le nazioni membre dell'Unione Europea cosa fanno? Appena vedono qualche problematica la prima cosa da azzoppare sono le politiche e tutti i poteri sovranazionali che potevano andare in capo alla Commissione Europea. Purtroppo questa è un'abitudine che ormai c'è da quando è praticamente nata l'Unione Europea. Tornando a bomba sui numeri abbiamo detto che ci sono 390 miliardi di sussidi quindi la Commissione Europea prende in prestito dei soldi dai mercati finanziari e poi li trasferisce senza bisogno di poi restituirli a tutti gli Stati membri che ne hanno più bisogno in base a una particolare metrica decisa all'interno del Consiglio Europeo. E quindi questi soldi come poi la Commissione Europea li potrà restituire nuovamente ai mercati finanziari? La proposta della Commissione Europea era quella di introdurre delle nuove tasse non solo delle tasse per la plastica a livello europeo ma anche riguardanti il carbone o delle tasse digitali per i big tech che operano all'interno dell'Unione Europea. Di tutto ciò alla fine dopo il Consiglio Europeo è rimasta solo la tassa sulla plastica a livello europeo che avrà l'obiettivo di appunto far ripagare questi sussidi e quindi permettere alla Commissione Europea di poter ripagare i propri debiti. Dal 2028 la Commissione Europea inizierà a ripagare i propri creditori e non sappiamo ad oggi se la sola tassa sulla plastica basterà ad eseguire questo compito quindi non è escluso che dal 2028 ci saranno dei nuovi trasferimenti dai singoli stati membri alla Commissione Europea per poter ripagare questo nuovo debito. Il Next Generation EU partirà dal 2021 e tra il 2020 e il 2021 ci saranno tutta una serie di pratiche e normative che dovranno essere svolte per poter dare alla Commissione Europea il potere di finanziarsi all'interno dei mercati finanziari. Un aspetto positivo però è che potranno essere messe a bilancio all'interno dei rendiconti che dovranno essere presentati dai singoli stati per poter sfruttare le risorse del Next Generation EU anche le spese supportate dagli stati dal febbraio 2020 in poi. Questo è un aspetto positivo che renderà la spesa pubblica fatta fino ad adesso più sostenibile. Abbiamo parlato di accesso ai fondi accesso ai fondi che non sarà l'acqua di rose infatti per poter appunto usufruire di queste nuove risorse ogni singolo stato dovrà redigere un documento dove andrà a giustificare tutte le proprie spese e a rendicontare nella maniera più dettagliata possibile come verranno spesi questi soldi e queste cose questi documenti dovranno rispettare delle linee guida che verranno emesse dalla Commissione Europea. E se qualche stato inizierà a spendere i soldi per mance elettorali cosa succederà? All'inizio dell'Olanda aveva proposto come abbiamo detto in precedenza un diritto di veto quindi uno stato avrebbe potuto bloccare l'erogazione delle risorse nei confronti di un altro stato però poi si è sceso a compromessi e si è pensato una soluzione più blanda e secondo me anche abbastanza intelligente. Un singolo stato può esprimere i propri dubbi su come un altro stato stia spendendo le risorse provenienti del Next Generation EU in questo caso l'erogazione dei fondi si arresta solo per tre mesi successivamente ci sarà la Commissione Europea che dovrà decidere se effettivamente c'è stata qualche tipo di infrazione e quindi cessare la disponibilità delle risorse nei confronti di uno stato europeo oppure meno diciamo che è una via di mezzo secondo me abbastanza intelligente che accontenta entrambe le parti quindi dà un minimo di responsabilità ai paesi meridionali ma allo stesso tempo si dà anche un minimo di flessibilità al tutto e si evita che i paesi del nord per qualsiasi motivo blocchino il flusso delle risorse dalla Commissione Europea ad ogni singolo stato membro ragazzi io spero di essere stato abbastanza chiaro sullo spiegarvi come funziona il recovery fund e sui motivi per cui può essere considerato tranquillamente un grande passo avanti nei confronti di un processo politico di integrazione europea e affinché l'Unione Europea conti maggiormente nel contesto globale tra Stati Uniti e Cina alcuni dicono che l'Italia riceverà 200 miliardi ora io non mi soffermo più tanto su queste cifre e su tutta la serie di polemiche che si sono create all'interno di questi cinque giorni sembrava veramente di vivere un pomeriggio cinque all'interno dell'opinione pubblica economica italiana ad esempio quei 200 miliardi sono una cifra sono un'indiscrezione che non è effettivamente verificata e potrebbe sicuramente cambiare in futuro quindi perderemo solo del tempo a fare solo delle speculazioni che sinceramente a me interessano il giusto come tutte le altre speculazioni che si sono create ultimamente condivido ogni parola che ha detto Shine nell'ultimo video dove ha spiegato il funzionamento del Next Generation EU quando parlava che sostanzialmente molto spesso l'opinione pubblica italiana riguardo il contesto economico molto spesso si perde in un bicchiere d'acqua e va a guardare il dito e non la luna perdendosi in polemiche sterili che poi scompaiono da un giorno all'altro e non guardando ai veri problemi dell'Italia che non vengono mai discussi sostanzialmente perché si pensa più all'opinione del giorno e alla polemica del giorno detto ciò ci vediamo al prossimo video ciao buon Next Generation buona generazione sperando che qualcuno ci pensi a noi ciao ciao